Nota importante, buongiorno a tutti, molta attenzione, mercoledì 22 di luglio 2020, associazione di cui credevamo, Banca, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, associazione di medio e piccoli risparmiatori più grandi d'Italia. Annotazione anche di oggi, purtroppo c'è stata un'ulteriore risposta, risposta a attacco verso i risparmiatori da parte del MEF, di un sottosegretario in particolare che ci è d'obbligo leggere e rendere noto perché chi usa canali istituzionali noi purtroppo possiamo usare solamente Facebook perché è l'unico mezzo di comunicazione che ci è dato utilizzare, no? Quindi giochiamo una partita impari, dateci una mano a divulgare il video se vi interessa l'argomento. Roma 18 luglio, questa leggo la nota ufficiale come ho detto quella dell'altra volta per chi ha poca memoria se la vada a vedere. Continuare a diffondere il panico non è un atteggiamento di buon senso istituzionale, il dato comunicato dalla CONSAP non è un errore della procedura. Allora qui il sottosegretario Villarosa continua a asserire che dare una cifra pari a 29 miliardi di quasi 29 miliardi di possibili richieste di risarcimento non crea panico. Beh, io le assicuro, avendo noi l'associazione di medio e piccoli risparmiatori, ripeto, più grande d'Italia, ricevendo decine e decine e decine e decine di telefonate al giorno, le posso assicurare che quel dato ha creato panico. Ha creato panico perché 29 miliardi di richieste di risarcimento non stanno né in cielo né in terra e rappresentano più del doppio della cifra della capitalizzazione totale di tutte le banche che vanno liquidate. Quindi c'è molto che non va all'interno di quel dato e pubblicare quel dato senza dire che era un dato del quale si prendeva atto, che era lordo, che era pieno di difetti e che come dice lei il valore non era verificato nella sua prima nota, ecco, questo ha creato panico, glielo posso assicurare. Mi dimostri il contrario se pensa il contrario. Io glielo posso assicurare con tutte le telefonate che abbiamo ricevuto. Quindi venga qui quando vuole, glielo posso dimostrare, altrimenti lei dimostri il contrario. Il magistrato Servello ha preso atto del valore complessivo delle richieste fatte dai risparmiatori. Ne prendiamo atto nel momento in cui lei ci scrive che è stato preso atto. Prima era una nota ufficiale di CONSAP e quindi era difficile sapere quello di cui lei ci dice oggi. A causa di diversi orori compiuti da alcuni risparmiatori e da alcune associazioni. Questo valore andrà rettificato di volta in volta mediante l'esame delle singole pratiche. Bene, anche di questo prendiamo atto. Lei continua a insistere che ci sono stati errori da parte degli risparmiatori e di associazioni. L'altra volta, nella sua nota, aveva fatto anche un'altra dichiarazione dicendo che potrebbero essere stati responsabili delle associazioni dal punto di vista patrimoniale degli errori che fanno. Lei continua a insistere su questo tasto. Noi la invitiamo comunque, caro sottosegretario, a dirci anche cosa vuole fare nei confronti degli istituti che hanno fornito i documenti in maniera non completa. Perché lei continua a dire cosa farà o a sottolineare gli errori dei cittadini, dei risparmiatori e delle associazioni. Non dice però cosa fa o cosa farà o cosa pensa degli errori fatti dagli istituti di credito bancari. che sappiamo sono soggetti molto più forti e potenti di noi, ma è probabilmente per questo che ci aspettiamo che lei prenda posizione anche verso quelli. Sarebbe il caso, sarebbe opportuno, lo riteniamo da cittadini. Ecco il motivo per il quale la Commissione Tecnica non potrà erogare gli indenizi, cioè lei riferisce per gli errori delle associazioni, non perché gli istituti bancari ci hanno fornito i documenti a metà. Comunque non potrà erogare gli indenizi in un solo giorno, ma necessità di compiere l'esame istitutore e di procedere a erogazioni progressive. L'iter che abbiamo scelto serve quindi per tutelare tutti gli spagnatori e non danneggiarli, come invece dice chi utilizza il FIR per costruirsi una carriera politica personale. Beh, ci faccia il nome di chi si sta costruendo una carriera politica personale. perché anche questo sarebbe giusto dirlo, visto che lei è un'istituzione, non deve aver paura di fare nome, li faccia pure sottosegretario. Tutte le domande incomplete saranno accolte mediante un'integrazione documentale. Anche questa procedura è a tutela dei risparmiatori e se è stata prevista dalla legge è perché l'ha voluto fortemente il governo 5 Stelle. Sì, è un appunto che l'avevo fatto io, mi perdoni, quando ha dichiarato la scorsa volta non dichiarerete il rigetto delle pratiche incomplete. Eccolo qua, l'ho sottolineato io che era in norma. Non lo ha detto lei, l'ho sottolineato io. È in norma, è vero. La norma l'ha scritta il governo, l'ha scritto il governo giallo-verde. E quindi, se è vero che è in norma, sì, glielo confermo. Lei qua chiede, lei dice se è vero che è in norma, è stata prevista dei risparmiatori, e se è stata prevista dalla legge è perché l'ha voluto fortemente il governo M5S. Sì, lei però nella prima nota sembra che sia una vostra volontà. Io le ho sottolineato che era una norma, lei adesso prende atto che è una norma che ha voluto l'M5S. Non solo l'M5S, visto che il governo era giallo-verde. In più continua, il FIR è il più grande successo di tutela e risparmio al mondo. In questo l'M5S ha svolto un importante ruolo che passerà alla storia. Su questo concordo. Concordo anche sul fatto che il ruolo, più che l'M5S, è stato dell'allora Vice Premier Ministro Di Maio e dell'allora Vice Premier Ministro Salvini, per onestà storica, visto che lei chiama in ballo la storia, le devo dire che il FIR, e lei lo sa benissimo, e quindi andrebbe detto anche questo, il FIR è sorto a Vicenza, in quella famosa assemblea del 9 di febbraio a Vicenza, dove tutti e due, gli ex Vice Premier e Ministri, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, erano presenti, c'erano tutte le televisioni e tutte le testate giornalistiche nazionali, hanno ripreso l'assemblea e lì è nato qualcosa di storico. Sarebbe giusto ricordarlo solo per questioni di correttezza e non di campanilismo, visto che lei è un'istituzione e non di campanilismo moto proprio. Noi, che l'unico campanilismo che abbiamo è quello della tutela dei risparmiatori, lo diciamo ad alta voce, merito all'M5S, Movimento 5 Stelle, merito all'ex Vice Premier, oggi Ministro Di Maio, merito anche alla Lega, merito anche all'ex Vice Premier e ex Ministro Salvini. Merito però anche, mi permetta, caro sottosegretario, perché è giusto dirlo, è merito anche di quelle associazioni che sono andate poi a Palazzo Chigi a confrontarci con il Premier Conte e hanno battuto i pugni su quella tavola. E le ricordo che questa associazione è una di quelle due associazioni che così si sono comportate. Quindi, lo devo dire per onore di cronaca, di storia, è anche un po' un po' un merito nostro, se non fosse altro che siamo noi che abbiamo organizzato a febbraio, a Vicenza, la riunione in cui erano presenti, ci hanno fatto l'onore di venire i due ex Vice Premier. Ok? Quindi, giusto per fare una cronaca storica, visto che lei richiama la storia. Non abbiamo bisogno di suggerimenti da chi utilizza i risparmiatori per fare una carriera politica. Secondo me, di suggerimenti ne avete bisogno, visto lei soprattutto, ne ha bisogno, visto che comunque comunicato, ripeto, è carente dal punto di vista storico. Mi piacerebbe sapere chi è che utilizza i risparmiatori ad oggi per fare una carriera politica personale, caro sottosegretario, anche perché le ricordo che lei era prima onorevole della Repubblica, ha fatto parte della Commissione, ma anche promettendo Mari e Monti anche all'interno della Commissione dopo che sono stati secretati i documenti, ad oggi quei documenti sono ancora secretati, lei la carriera politica mi risulta l'abbia fatta perché è passata da onorevole a sottosegretario, quindi qualcuno che abbia fatto carriera politica personale c'è di sicuro e per il momento è lei, le chiedere di portare avanti tutto quello che aveva promesso quando era solamente onorevole e quindi di desecretare i documenti della Commissione, di fare una nuova Commissione Banche come si deve perché noi siamo ancora qua in attesa di una Commissione Banche seria che prende in mano la situazione insomma caro sottosegretario visto che lei la carriera l'ha fatta che ci dia anche un risultato lasciamo lavorare seriamente il magistrato Sarvello e ci mancherebbe nostra intenzione il suo ruolo sarà di garanzia di buon esito di tutta la procedura questo lo vedremo Camin facendo sperando nel buon esito non abbiamo dubbi sulla garanzia lo annuncia in una nota il sottosegretario Alessio Villa Rosa eccolo qua comunque caro sottosegretario giusto per finire l'appunto le faccio presente un'altra cosa le faccio presente che gli errori che noi abbiamo sottolineato di tutta quanta quella procedura lì al di là di quelle che possono essere le mancanze le carenze che lei continua a imputare le associazioni e i risparmiatori dando colpe ai risparmiatori e alle associazioni io le rinnovo il fatto che comunque ci sono anche state delle mancanze innumerevoli a parte di istituti bancari ma non solo la cosa che ci stupisce sa cos'è? che ad oggi Consap non c'ha ancora risposto alle nostre richieste per capire quali siano i dati non li ha ancora in mano ma la cosa che ancora più ci stupisce e che la gente deve sapere è che quel programma fatto da Consap ci è costato leggendo nei giornali 700 e oltre 1000 euro ci è costato a noi risparmiatori perché quelli sono soldi che vengono presi dal FIR quindi noi abbiamo pagato un programma ok che è stato costruito da Consap o da chi non si sa perché non c'è scritto nel sito ma che è gestito da Consap e che ha dato come risultato più del doppio della capitalizzazione delle intere banche quindi che ci sia un programma che noi abbiamo pagato più di 700 mila euro e che non riesce ad avere un filtro nemmeno prendendo atto che ha dato come risultato più del doppio della capitalizzazione in miliardi di euro ok di quella possibile di tutte le banche al maggior volume di bilancio beh questo è quanto poco incredibile io oserei dire anche scandaloso non solo chi prende atto di quel dato dovrebbe aver scritto sotto grande così questo dato è ovviamente da verificare perché caro sottosegretario cosa che lei non dice glielo sottolineo io quel dato è più del doppio della capitalizzazione di tutti gli istituti messi insieme quindi che ci sia qualcosa che non va è assolutamente per noi ovvio lo è anche per voi oggi dopo che noi ve lo abbiamo sottolineato a lei dà fastidio che noi sottolineiamo i vostri errori evidentemente visto i comunicati che continua a buttare fuori sempre parziali e sempre a difesa del sistema burocratico romano questo ci dispiace nel profondo perché quando sedeva dall'altro canto del parlamento e non era nelle istituzioni era molto più critico oggi è molto più accondiscendente questo è un altro dato di fatto storico la invitiamo comunque in un incontro pubblico che lei decida dove e quando io sono sempre disponibile in modo che chiarire questa situazione perché veda le polemiche non fanno bene a nessuno noi rispondiamo la cosa che è un dato di fatto e che manca e che mancano dati ufficiali e che siamo a mano ad un sito che ci ha costato migliaia di centinaia di migliaia di euro e che non riesce a darci una risposta concreta e che anzi dà un dato assolutamente falsato questo questo anche da contribuenti le assicuro non solo da risparmiatori fa male un abbraccio a tutti se volete divulgare questo video potete divulgarlo l'associazione noi che credevamo questi sono i nostri numeri queste sono le nostre facce sotto segretario la aspettiamo in un incontro pubblico quando vuole caro Villarosa una buona giornata a lei una buona giornata a tutti e condividete questo video se condividete le nostre idee grazie ancora